Cari amiche ed amici di Pescanet, è una giornata molto importante per Pescanet del gruppo pescatori sportivi Manfredonia. Sono al trofeo Cattura l'onda Sipontina di questa mattina 4 novembre. Devo parlare a bassa voce perché la concentrazione è molto alta tra i concorrenti che si stanno dando battaglia a suon di pesci pescati qui dalla spiaggia. Proprio per questo motivo farò anche il video in un modo molto silenzioso senza dar fastidio e riprenderemo i momenti più importanti della competizione e poi la parte finale nella quale poi ci sarà la premiazione di coloro che avranno vinto. A più tanto! A più tanto! I want to go where no one else has gone I want to fly higher than the sun I want to dive deeper than the sea All after all it's only a dream So please tell me where's the place that I belong I'm trying so hard but everywhere it's wrong I must choose every chance before it's gone So every day I'm gonna play this song I want to go where no one else has gone I want to go where you go I want to fly higher than the sea I want to fly higher than the sea Tell me where's the place that I belong I'm trying so hard but everywhere it's wrong I must use every chance before it's gone So every day I'm gonna play this little song Sometimes I feel that we are so small And everybody tries to find a way we can't talk But it's a nation's a blessing for us Because without a goal humans can't suffice 180, Manuel 160 180 180 Libergolis, Libergolis Luigi Una preda Albovi Agostino Il signor Rossetti Raffaele De Soenzio Premia il signor Marco De Biase Lo has dicho de las correas 1 Grazie a tutti.